Furto di uno sportello Bancomat e caccia la banda di ladri, un piano organizzato a tavolino, nei minimi dettagli, hanno approfittato del buio della notte per agire, si sono addentrati nell'agenzia di promozione finanziaria alias Bank di Viale Ionio a Ginosa Marina, hanno agito con sicurezza, spediti, come se conoscessero bene quel posto, sapevano come muoversi, di velta una porta laterale di accesso hanno raggiunto lo sportello Bancomat, dopodiché lo hanno agganciato ad un cavo trainato da un camion e hanno così sradicato il cavo portandoselo via e dopo la fuga. Sul posto, dopo l'amara sorpresa per il direttore dell'agenzia di intermediazione finanziaria, sono arrivati i carabinieri della stazione di Ginosa Marina e gli uomini del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castellaneta. effettuati i rilievi sono scattate le indagini che saranno chiuse soltanto quando i responsabili del furto saranno assicurati alla giustizia, ancora da quantificare il bottino e i danni arrecati alla struttura.